L'allerta nucleare rompe al G8 di Parigi. Incontro bilaterale tra Russia e Giappone. Il ministro degli esteri Sergei Lavrov e l'omologo giapponese Takeaki Matsumoto hanno discusso delle conseguenze del terremoto di venerdì e dell'aumento dei livelli di radioattività in Russia. Sono stati registrati valori alterati, ma comunque ancora nella norma, secondo gli esperti, a Vladivostok. I militari russi sono allertati anche per evacuare i residenti dell'isola di Sakhalin e le Kurili del Sud. Le isole in questione sono al centro di una disputa territoriale da anni. Annesse dall'URSS nel 1945 sono da allora reclamate come proprie da Tokyo.